Ricordo un po' anche la storia della signora Metalli, perché è una signora che si ignora, nel senso essere apposta fa ignora, per citare Carmelo Bene, adesso vediamo come fa una signora ad ignorarsi attraverso il non linguaggio che è la musica. Prego. 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 Sempre Sempre Prego Prego Grazie Grazie Meno cosa voglio di cantare assieme a te Mi direbbe voglia però lasciamo stare Adesso Invece Mentre Marcella anticipa Il prossimo brano Che è Piovevo Troviamo anche il tempo per accordare Un pochettino perché fa parecchio caldo Sì, devo dire Spendiamo molti soldi di spazzamento Viva Dio No, è condominiale Sì, weekend E quindi Ci stiamo studiando Però siamo in una vecchissima e gloriosissima Casa del Popolo Costruita mattone su mattone Da parte dei partigiani di Bologna Eh sì Devo dire quando poi Finì il suo ruolo di casa del popolo Fu poi diventata sede dell'adatto Eh beh sì Qua ci sono stati tantissimi locali C'è stata anche una sede dell'Estragon Una decina di anni fa Io ci ho visto più o meno qua Torno Skin In concerto Come una scimmietta Correva e saltava in tutte le pare